sono stato un utilizzatore per diversi anni di sony a7 III tant'è che nelle mie varie scelte di camere da utilizzare diverse volte l'ho acquistata e ci ho lavorato davvero tantissimo sono rimasto molto impressione e rimasi all'epoca molto impressionato da quello che era quel corpo macchina e da come ha ribaltato completamente quello che è il mercato perché effettivamente grazie a quel corpo macchina sony ha praticamente preso tutto il mercato delle mirrorless e lo ha reso quello che è oggi quindi mi sono domandato mi sono posto la mia domanda quando ho visto la sony a7c mi sono domandato ma perché questo corpo macchina così perché poi realmente questo corpo questa 7c non è tantissimo più compatta di una 7 III certo manca una bella porzione che quella dell'oculare che trovavamo sopra la 7 III e ritroviamo un grip un pochino più piccolo insomma siamo molto nelle misure di quella che di quelle che sono la famiglia apsc di casa sony quindi parliamo ad esempio della 6600 quella un pochino più grossa e cicciotta la 7c ci si avvicina tantissimo tantissimo che riprende quella che è la forma il form factor il disegno della della gamma apsc di sony ma porta con sé un sensore full frame ora quando l'ho vista mi sono domandato strana come corpo macchina probabilmente porteranno il segmento a 7 III il corpo a 7 III a scemare a un pochino andare nel dimenticatoio perché cambieranno arriverà la 7 IV e rincinciottano tutti quelli che sono i componenti della 7 III all'interno di questo corpo macchina vendendola come corpo più piccolo dove quindi nel nome proprio a 7c la cista per compact beh io l'ho provata la 7c e ho ritrovato una 7 III praticamente una 7 III l'unica differenza è il viewfinder quindi l'oculare che è peggiore molto più piccolo e scomodo utilizzare specialmente per chi come me porta gli occhiali ma un monitor molto più chiaro e soprattutto un monitor ribaltabile non vuole essere una grandissima recensione della 7c tutte quelle che sono le specifiche tecniche sono molto molto simili se non del tutto simili a quella della 7 III e vi lascio qui sotto la scheda ufficiale di sony quello che voglio di cui voglio parlare è il feeling che ho avuto io con questa camera oltre al fatto che è molto più bella con questo doppio colore che gli hanno donato non è assolutamente male tutto questo perché io l'ho presa ed è la camera che mi sta registrando in questo momento l'ho testata per poco tempo parliamo di circa 15 giorni ma vi ripeto tutti quelli che sono i pro sono tutti i pro della 7 III e tutti i contro sono gli stessi della 7 III parliamo infatti che abbiamo lo stesso identico sensore stesso sistema di stabilizzazione anche se sony dice che ha migliorato l'algoritmo di stabilizzazione ed è un po' vera questa cosa perché ho notato che nella stabilizzazione handy quindi quando si ha la camera in mano in determinate situazioni il corpo ragiona molto meglio nel rapporto tra il movimento della mano e quello che succede all'ottica un'altra cosa importantissima è che la 7c a differenza della 7 III registra tutti i movimenti del giroscopio all'interno del file video in questo caso perché parliamo di video naturalmente quando parliamo di grosse stabilizzazioni parliamo sempre di video grazie a un programmino che ci mettono a disposizione stesso da casa sony è possibile far rielaborare tutti i dati del giroscopio e applicare una stabilizzazione digitale molto ma molto fedele ho visto dei test ho fatto io qualche prova ed effettivamente così funziona davvero benissimo un'altra piccola cosa che è migliorata o meglio noto che è migliorata davvero tanto è la color science dell'immagine è stata portata quella che è la color science inserita nella nuova 7s III non è assolutamente male anzi mi piace molto di più gli incarnati rendono molto meglio sono abbastanza soddisfatto di questo passaggio che è stato fatto in casa sony perché stanno tendendo sempre a migliorare sempre di più mi sarei aspettato almeno un 60 fotogrammi al secondo su questo corpo macchina ma mi rendo conto che non volevano surclassare completamente quello che è il corpo a 7.3 e special modo creare la strada per quello che sarà la 7.4 in pratica che probabilmente se vado me ne vado per un'idea la vedremo nell'inizio 2021 secondo me tra febbraio ed aprile 2021 vedremo la nuova 7.4 e probabilmente porterà con sé un 4k 60 fotogrammi al secondo mentre la 7s III rimarrà per ora la flagship per quanto riguarda il video come mirrorless lavorando in 10 bit a 120 fotogrammi al secondo quella davvero è una bomba atomica nell'utilizzo di tutti i giorni nel portarla con sé questo corpo macchina mi ha davvero intrigato tantissimo perché seppur vero che non differisce tantissimo dalla 7.3 anche nelle dimensioni si è differente ha un design totalmente differente dalla 7.3 ma realmente come peso e dimensioni come ingombri siamo lì mi ha invece stupito perché è molto ma molto più maneggevole e trasportabile certo perde un po' nel grip il grip non è propriamente il top rispetto per esempio alla 7.3 o alla 7s III che sono un'impugnatura molto più interessante infatti mi sto procurando un cage esterno per la camera per dargli un po' di grip in più e special modo per aggiungergli qualche accessorio extra che può essere utile un'altra cosa invece molto ma molto interessante aggiunta nella 7s III nella 7R4 è la possibilità di registrare l'audio digitale con il nuovo microfono che ha fatto Sonic adesso lo faccio vedere parliamo di questo microfono qui ora non ricordo la sigla precisa ma di sicuro vi metto il link in descrizione questo microfono ha un costo circa di 380 euro se non vado errato di listino si sente davvero benissimo funziona davvero molto bene io l'ho provato prima su A7S III poi l'ho provato su A7C perché è compatibile e la cosa bella è che grazie al connettore e ai pin che troviamo nell'innesto per la sletta hotshow registra completamente il segnale digitale della camera quindi passa direttamente un segnale digitale e registra un audio davvero pulitissimo quindi non avremo necessità di avere un filo tra il microfono e il corpo macchina potremmo ragionare tantissimo su questo genere di microfono perché poi può creare dei problemi perché non può essere montato al contrario perché i connettori sono soltanto sopra non può essere montato su un cage o tenuto in mano ad esempio e puntato in altre parti da altre parti semplicemente perché deve essere proprio montato fisicamente sul corpo macchina ma è davvero molto interessante perché Sony si vede che ha creato comunque un piccolo ecosistema anche per i content creator oltre che per i videografi e i filmmaker che hanno necessità della mirrorless infatti A7C io la consiglierei non solo come secondo corpo perché ci sono dei videografi che ad esempio videografi ma anche fotografi perché A7C è esattamente un A7III con qualche miglioria e un corpo un pochino più piccolo quindi la consiglio tranquillamente a qualsiasi fotografo videomakers che ha bisogno di comprare un altro corpo macchina da mettere accanto alla sua A7III, alla sua A7R4, A7R3, alla sua A7SIII questa può essere per esempio un'ottima Bcam per la A7SIII anche se per il costo a cui viene proposta di 2100 euro proprio Bcam non vorrei tanto considerarla perché può essere utilizzata tranquillamente come macchina principale interessante ma non ho avuto modo di provarlo infatti me ne sono un po' pentito l'ottica in kit che è stata presentata insieme a questa A7C infatti la A7C viene venduta in doppio kit, solo corpo come l'ho presa io e il corpo in bundle con quest'ottica zoom non pancake ma comunque molto ma molto piccola che è un 2860 f456 quindi non tanto luminosa ma ha dalla sua il vantaggio che è molto ma molto compatta nasce proprio dall'idea di avere un'ottica compatta davanti a un corpo compatto quindi questa è una cosa da voler provare appena riuscirò a metterci le mani sopra sicuramente lo proverò nota positiva porta le stesse batterie sia di A7III che di A7SIII che di A7R4 tutti questi nomi un po' particolari quindi porta le batterie NZ, le batterie Z, una cosa del genere quindi le batterie molto capienti la durata effettivamente è al pari di un A7III quindi per i possessori di A7III A7C è praticamente un corpo uguale e qualche miglioria ha delle mancanze come ad esempio non troviamo la ghiera sull'impugnatura frontale io sono sempre stato abituato ad avere due ghiere una da comandare con l'indice e un'altra da comandare col pollice e poi la rotellina dietro la A7C perde il controllo davanti e perde il doppio slot infatti porta un solo slot ma le connessioni sono quelle diciamo di standard ad oggi che sono un USB-C che ci permette anche di ricaricare la macchina una micro HDMI, l'ingresso jack e non ricordo se c'è l'uscita cuffie confermo c'è anche l'uscita delle cuffie non ci avevo fatto caso, non me ne ero completamente dimenticato quindi diventa per me un'ottima alternativa tant'è che io l'ho scelta da utilizzare come corpo sia per il lavoro che per la realizzazione dei contenuti qui su web perché a mio avviso secondo me è l'ottima alternativa come compattezza, grandezza e funzioni, qualità con A7 III avrei riscelto nuovamente A7 III ma questa che porta anche il monitor flippabile verso di noi quindi posso anche guardarmi in questo momento mi guardo nello schermo è molto molto più funzionale rispetto alla A7 III che purtroppo non ci permette di guardarci perché non ha il monitor che flippa ma sicuramente l'A7 IV lo avrà tanto se è capito che sono ormai andata su questo mood ha capito che tutti quanti vogliono il monitor che flippa e non vogliono il monitor che si alza verso l'alto in 90 gradi e quindi adesso farà tutti i monitor così ma come sono dell'idea che un po' tutti i brand ora ormai fanno i monitor flippabili chi c'è che non lo fa ancora? Nikon? forse Nikon non so se la Z6 e Z7 portano il monitor flippabile ma se non vado errato Canon non lo ha Sony sì Panasonic sì chi altro c'è? Olympus pure tutti i brand ormai fanno il monitor flippabile perché hanno capito che l'utente vuole la versatilità anche Fuji ormai sulla T4 porta il monitor flippabile insomma io non ho tantissimo altro da dire su questa Z7C se non che mi è piaciuta davvero tantissimo da quando l'ho ragionata perché io l'avevo scartata al primo momento al primo momento avevo scartato l'idea di una Z7C fino a che poi non l'ho effettivamente ragionata mi sono seduto, ho pensato, ho capito qual era il ragionamento oltre a quello di marketing di dover risfruttare tutti i componenti della Z7C perché comunque la Z7C è tuttora un prodotto vincente ed anzi io non posso consigliare di cambiare una Z7C per una Z7C perché sostanzialmente sono lo stesso corpo la Z7C porta delle piccole migliorie ma nulla che debba far cambiare il corpo macchina mentre posso consigliare questo corpo da affiancare ad un altro corpo chi ha necessità di avere un secondo corpo perché ad esempio scatta o registra video abituato a camminare o ad utilizzare due corpi macchina beh la Z7C è ad oggi secondo me un'ottima alternativa naturalmente poi aspettiamo la Z7C che ribalterà ancora le carte in tavola forse però come compattezza misura secondo me la Z7C ha vinto insomma la mia personalissima review della Z7C dove è più un commento piuttosto che una recensione vera e propria termina qui io spero che possa essere stato d'aiuto a qualcuno di voi a chi è curioso di questa camera a chi la vuole provare a tutte le persone che hanno sentito parlare e sono rimaste incuriosite o anche le persone che l'hanno scartata subito proprio perché ci sono rimasto quando l'ho provata sono convinto che questa Z7C ha tanto da dare a tante persone vi lascio qui sotto in descrizione quello che è il link per andare a vedere quello che è il prezzo ufficiale perché al momento che sto registrando prezzo di listino è 2.099 euro in kit con l'ottica è 2.399 se non vado errato ma se voi state guardando questo video tra un anno probabilmente il costo sarà sceso quindi vi lascio qui sotto il link in descrizione insomma cos'altro dirvi se avete delle domande potete scrivermi le qui sotto nei commenti non dimenticatevi di seguirmi su Instagram cos'altro dirvi noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video